Se ci pensate, questo è un paese che al mattino in tv vi dà lezioni di cucina, fino a luna abbiamo proprio del cuoco, non so se la fanno ancora in tv, io non guardo la tv, e quindi la cucina è arrangmante, c'è, e dal pomeriggio iniziano i dietologi e i medici a parlare del mare che fa il cibo. Beh, fa sorridere, però se ci pensate, un po' di cortocito micro c'è.